A nome della squadra della Scuola Volley Forio, posso dire che siamo molto molto contenti di aver raggiunto questo traguardo. Aver vinto il campionato di Serie D con alcune difficoltà non è stata una cosa che pensavamo potesse succedere, ma che alla fine è successo e che ci ha reso veramente molto molto felici e anche molto fiere di tutto il lavoro che abbiamo fatto, sia noi come squadra che noi come società. L'organizzarsi ogni giorno con il lavoro, chi con figli, chi con babysitter, chi con lo studio, chi ancora con la scuola o con gli esami all'università sono state un po' delle challenge da superare e che abbiamo superato con una buona capacità, quindi veramente molto molto soddisfatte. Non è stato un anno abbastanza facile a livello agonistico anche perché molte ragazze della nostra squadra hanno fatto ruoli che in realtà non erano i loro, come Simona Califano che ha giocato in B2 come libero ma che in realtà quest'anno ha fatto la palleggiatrice, oppure come mia sorella Daniela che è libero ma in realtà ha giocato come opposto. Ci siamo però riuscite ma la cosa più bella è che veramente ci siamo molto divertite, sia durante gli allenamenti che durante le partite. Per i nostri progetti futuri si spera di allargare ancora di più la nostra squadra, si spera di far entrare nel nostro gruppo ragazze sempre più brave, soprattutto che abbiano voglia di mettersi in gioco, di giocare, di affrontare partite che secondo me l'anno prossimo saranno un po' più difficili rispetto a quelle di quest'anno. Spero anche che la nostra società possa ampliarsi ancora di più, non solo per quanto riguarda le ragazze ma magari anche per quanto riguarda lo staff, per quanto riguarda i campionati come il gruppo Volley S3 oppure il gruppo Under 12, così ovviamente come il gruppo della Serie D. Sicuramente come progetto futuro molto molto vicino abbiamo il Beach Volley che si farà a Forio e speriamo che quest'anno sia ancora meglio rispetto all'anno prossimo e che possano venire molti bambini. Noi siamo sempre aperti e non vediamo l'ora di organizzare il Beach Volley, non solo per i bambini ma anche proprio per noi staff perché è un incontro che facciamo ogni anno da dieci anni ormai. Lo organizziamo sempre alla spiaggia della Chiaia a Forio e dalle 6 alle 7 con il gruppo dei più piccoli e poi dalle 6 e mezza fino alle 8 e mezza o comunque fino a quando tramonta il sole con il gruppo dei più grandi. Gli più grandi vale a dire 10, 11, 12 anni ma anche 14, 15. Quindi speriamo che quest'anno sarà una bella estate e che possiamo organizzare quanti più tornei di Beach Volley possibili.